Musica Inizia un nuovo anno all'insegna della formazione presso l'ITS Turismo e Beni Culturali a Lecce con un nuovo corso biennale gratuito di alta specializzazione che si pone l'obiettivo di formare professionisti del restauro architettonico di edifici storici Il percorso è strutturato anche e soprattutto in dei laboratori attivi in cui i ragazzi non ascolteranno le lezioni ma cercheranno su casi reali di lavorare perché questo tecnico di conduzione del cantiere di restauro architettonico serve una figura intermedia che supporti il team di direzione del cantiere stesso è chiaro che la presenza costante e sistematica di un tecnico specializzato sul cantiere che ha competenze in fatto giuridico, in fatto di norme in generale, di sicurezza e soprattutto da un punto di vista tecnico della conduzione del cantiere stesso e quindi sa come organizzarlo, sa organizzare le risorse umane è chiaro che una figura, noi abbiamo fatto un'indagine molto approfondita siamo stati aiutati in questo dal Lance i proprietari stessi delle aziende di costruzione si augurano che ci sia una figura intermedia di questo genere d'altronde anche ci conforta la presenza sia dell'ordine degli ingegneri che dell'ordine degli architetti che daranno spessore e naturalmente consistenza a quella che è la formazione di questi ragazzi Il percorso ebennale sarà caratterizzato da diversi laboratori ed è stato riconosciuto anche dal Consiglio Nazionale dei Geometri Noi abbiamo sposato subito il progetto di ITS come dicevo, perché crediamo da sempre nella formazione e nella specializzazione non abbiamo futuro senza un'alta professionalità ormai in tutti i settori in particolare crediamo in questo progetto perché viviamo in un territorio con tante risorse artistiche e culturali e quindi dobbiamo avere le capacità di poter operare in questo settore anche perché è un settore che ha tante prospettive e tanti sbocchi professionali per i nostri iscritti A coordinare il tutto un tavolo tecnico molto qualificato tra ANCE, FSC di Lecce, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Unisalento e il FAI Delegazione Lecce Questa iniziativa sposa perfettamente quelle che sono le esigenze attuali e che in proiezione investiranno il mercato delle costruzioni e non solo nei prossimi anni e decenni Lamento da Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria una flessione del numero di iscritti a queste discipline che ha paradossalmente articolato oggi il bilanciamento di domanda e offerta verso una fortissima domanda da parte del mercato mentre noi non riusciamo a trovare delle figure specializzate Paradossalmente il nostro settore nel passato ha vissuto un eccesso di offerta e invece una mancanza di figure adesso si è ribaltato nel senso che questo settore richiede queste figure e ne richiede anche un numero abbastanza importante perché l'evoluzione del settore in questo momento è esplosiva e purtroppo ci sono difficoltà di riperimento di questa figura e speriamo che con questo corso si riesca a colmare questo gap Si sblocchi questa situazione? Sì, assolutamente sì Grazie a tutti